Buongiorno a tutte e a tutti. Spero che mi sentiate bene perché purtroppo la mia connessione wifi questa mattina ogni tanto mi segnala che non è completamente stabile. Anche per questo sarò brevissima. Sarò brevissima soprattutto però perché mi interessa che i relatori abbiano lo spazio adeguato per le loro relazioni e che resti anche tempo per gli interventi e per il dibattito. Che ritengo importantissimo perché la Summer School di quest'anno si chiama proprio la salute di chi consuma droghe e la salute mentale. Sottotitolo saperi critici a confronto per un'alternativa alla patologizzazione. Ebbene mi permetto solo di sottolineare alcuni punti di riflessione che so essere assolutamente condivisi ma che ritengo appunto importanti oggi ancora di più e trovo assolutamente come dire puntuale adeguato opportuno che la Summer oggi di quest'anno abbia questo titolo. Ho visto quello che sta succedendo al di fuori di noi e che ci riguarda direttamente. Insomma la dico così. Dopo oltre trent'anni di guerra alla droga con le conseguenze che la guerra alla droga ha avuto in termini di criminalizzazione di consumo e consumatori, patologizzazione di consumo e di consumatori, nonostante le evidenze che in tutti questi anni si sono accumulate e che sono sotto gli occhi di tutti tranne di chi strumentalmente non le vuol vedere, ecco oggi torna prepotente il ragionamento proprio su questo, sulla medicalizzazione e la patologizzazione e la patologizzazione dei consumi e dei consumatori. Penso solo per fare un riferimento che però è importante al documento prodotto da Genas poche settimane fa che di fatto elimina, che di fatto in questo caso è una tendenza che è stata il ragazzo e che di fatto in questo caso è una tendenza in atto da tempo nei confronti della quale noi abbiamo espresso sempre le nostre riserve e le nostre critiche perché pensiamo che il tema dei consumi, dell'uso, dell'abuso, della dipendenza debba essere affrontato in termini che non sono certo quelli della medicalizzazione e della patologizzazione, è capitato ultimamente di sentire nuovamente in maniera anche abbastanza prepotente il ragionamento su terapie per esempio di stimolazione elettrica transgranica per la cura delle dipendenze sono cose molto preoccupanti perché parlano appunto al di là poi di tutto quello a cui assistiamo nella stampa di come viene affrontato il tema dei consumi, dei consumatori sempre in termini di cronache stigmatizzanti insomma ci parlano di un forse non so quanto sia forse un ritorno indietro rispetto appunto a come si affronta il tema dei consumi delle sostanze. Penso che sia importantissima questa riflessione che oggi andiamo ad affrontare per questi motivi che ho provato ad accennare ma che i nostri relatori sicuramente affronteranno in maniera assolutamente compiuta e documentata questa prima parte si chiama lezioni apprese la storia le storie mi pare che stando così le cose le lezioni apprese le lezioni che ci sono state non siano state proprio completamente apprese e che sia necessario che sia necessario che sia necessario che sia necessario che si levi forte la nostra voce a dimostrare come le evidenze ci parlano di altro rispetto appunto a patologizzazione, criminalizzazione eccetera. Il primo intervento è quello di Stefano Vecchio che è il presidente di Forum Droghe già direttore del Dipartimento per le Dipendenze dell'Aso di Napoli 1 il suo intervento ha il titolo di processo appunto dico io uno sguardo critico. Penso che uno sguardo critico sia assolutamente necessario per i motivi che io appunto ho provato soltanto ad accennare ma che verranno in questi tre giorni dispiegati compiutamente fra tutti noi. La parola a Stefano Vecchio. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi dicono che l'organizzazione ha disattivato la condivisione del schermo. Sì, è Leonardo perché è entrato nel primo. Leo dovresti rendere Stefano coorganizzatore. Io ho preparato un powerpoint per cercare di stare nei tempi e riuscire a dire più o meno le cose che pensavano loro. Eccoci qua. Allora Buongiorno a tutti. Intanto vorrei dire sono molto contento di questa Summer School nonostante è online. Io sarei stato contento di vederci, di incontrarci, di parlare anche nei corridoi, però mi sembra che l'argomento sia un argomento che ha avuto, che ha un, come dire, ha avuto successo tra gli operatori, vedo anche diversi operatori pubblici. Io proverò a delineare un percorso che mette in evidenza le differenze, ma che prova a individuare anche gli incroci e le prospettive comuni tra la salute mentale e la salute delle persone che usano droghe. Chiaramente spostando più dal punto di vista delle droghe. Ma anche il comune che ci riunisce nel sociale, nella cultura, nella critica attiva e all'impegno politico. Io parto da una premessa veloce. Leggerò un po' velocemente per stare nei tempi, però credo che, diciamo, ci capità il senso del discorso. Vi propongo come premessa due citazioni, i due classici, diciamo, le due diverse aree. La prima è di Norman Zimbert. Al fine di capire cosa spinga una persona a usare droghe illegali e quali effetti queste sostanze abbiano sul consumatore, devono essere considerate tre determinanti. La sostanza, il drug, cioè l'azione farmacologica della droga, l'individuo, il set, l'atteggiamento della persona nel momento del consumo, inclusa la sua struttura di personalità, e il contesto, il setting, l'influenza del contesto fisico e sociale in cui avviene il consumo. E' il contesto sociale, attraverso lo sviluppo di norme e rituali, a portare sotto controllo l'uso di sostanze illegali. L'uso di qualsiasi droga coinvolge sia valori e regole di condotta, che ho chiamato norme sociali, sia modelli di comportamento, che ho chiamato rituali sociali. Definiamo la combinazione di entrambe come controlli sociali informali. Le norme sociali definiscono se e come una specifica droga dovrebbe essere usata. Possono essere norme informali, oppure possono essere formali relativi a leggi e politiche che regolano l'uso di sostanze. Vedete che già qui vi è un rovesciamento, un capovolgimento di quella che è la visione dominante ancora del fenomeno delle droga. Scusatemi, io vedo a Sandro, non vedo me, la stessa cosa. Vedo, diciamo, nel riquadro sopra, ma gli altri mi vedono? I partecipanti mi vedono? Sì, questa è la seconda citazione dell'altro grande classico Franco Basagli. Ora, sommersi sotto un castello di entità morbose, di etichettamenti, definizioni, siamo costretti a mettere tra parentesi la malattia come classificazione nosografica, se si vuole riuscire a vedere in faccia il malato e il suo disturbo reale. La malattia, cioè, si trasforma di volta in volta da ciò che è originariamente, cioè una delle contraddizioni umane racchiuse tra la vita e la morte, in ciò che di volta in volta viene definita per identificarsi nell'istituzione resta deputata. Vedete che dalle due citazioni emergono già alcune differenze costitutive, degli inizi, possiamo dire, dei fenomeni, ma anche gli incroci legati ai processi sociali e culturali. Entrambi fanno riferimento a fattori di setting, ma direi da posizioni diverse. Ma mi permettono di delineare un percorso incompleto, accidentato, pieno di svolte, discontinuità, interruzioni dei discorsi sulle droghe, costruite in Italia e sulle relazioni più o meno pericolose con i discorsi della salute mentale. Considerate che noi non abbiamo una storia della follia, né un'esperienza così intensa di destituzionalizzazione, quindi le nostre ricostruzioni sono sempre provvisorie, sono sempre complesse. Diciamo che le concezioni del mondo della droga, così noi, come oggi, appaiono ancora, anche se diciamo in forte contraddizione, quindi la percezione sociale delle persone che usano droghe sono espressioni di un continuo processo di costruzione di una rappresentazione sociale che non ha niente di oggettivo, ma viene modellata sulla base di dispositivi diversi, come benissimo internazionale, leggi, modelli culturali veicolati attraverso le informazioni, media, culture degli operatori. La realtà del fenomeno cambia strutturalmente se si adottano politiche di regolazione sociale, per esempio centrale sul governo del fenomeno, come la legalizzazione, la depenalizzazione, o, come accade oggi, se centrate sulla repressione, la penalizzazione dei comportamenti legati all'uso di droga. L'esempio dell'alcol è eclatante, è una sostanza psicoattiva che è regolata da una legge, è controllata socialmente dalle persone che la usano in base a regole rituali condivisi ed è iscritta nella nostra cultura, quindi un consumo socialmente accettato. Sul versante dell'illegalità, la repressione, l'ideologia, le politiche proibizioniste, delineo invece uno spazio nel quale le persone che usano droghe illegali diventano devianti, marginali, pericolose e malate croniche. Sono percepite secondo questo schema dalla popolazione, ma esse stesse si identificano in questo modello. Ora, io vi farò un escursus veloce delle leggi, perché le leggi hanno rappresentato un dispositivo politico centrale nella costruzione sociale del fenomeno delle droghe, anche nella formazione dell'opinione pubblica. Ho valutato rifare questo veloce escursus, sia perché credo che una buona parte dei partecipanti sono giovani, sia perché effettivamente è interessante guardare tutto quello che è accaduto in questo nostro mondo e confrontarlo con le diverse, diciamo, con la rappresentazione sociale, così come si è sviluppata nel tempo. Ora, guardate, fino al 54 era depenalizzato l'uso anche se si prevedeva il decovero 4. E fu nel 54 la prima legge che introduceva il cosiddetto proibizionismo penale, cioè puniva la detenzione di droghe, anche questa in attuazione di una convenzione internazionale. Beh, è curioso pensare che nel 54 è anche l'anno in cui sono nato io, chissà, evidentemente è stato un anno in cui sono stato segnato nel mio destino. E dall'altra, questa è la registrazione positiva, già all'epoca produssa degli effetti negativi, come tendenza dei consumatori a stare nell'illegalità, aumento delle overdose, aumento delle detenzioni. Il tema politico dell'epoca, proprio per le mobilitazioni, siamo ancora all'onda lunga del 68, che sono iniziative di disobbedienza civile da parte di Marco Pannella, quindi forti critiche e contestazioni, per cui nel 75 viene approvata una nuova legge, la legge 685, che alcuni ricorderanno, che di fatto depenalizza il consumo di droghe, introducendo il principio della modica quantità e ridimensionò anche le sanzioni amministrative, prendendo il numero pervasivo. Ma nei cinque anni successivi, perché la legge non aveva previsto un vero e proprio sistema di servizi da attivare, il ministro del Socialista dell'80-81, all'epoca aniasi, da cui i due decreti aniasi, dette mandato alle regioni di istituire invece i servizi per le tossicodipendenze, come venivano chiamati, su tutto il territorio nazionale. E si prevedeva l'uso del metadone e anche un uso in via sperimentale della morfida, tra l'altro questa seconda esperienza è stata cancellata senza un grande confronto. Ricordiamoci che era l'anno, diciamo, il periodo, l'anno, due anni era stata approvata la 180, dopo pochi mesi era stata approvata la 833, la legge di riforma della sanità che spostava l'asse del sistema sanitario sul territorio che inglobava la 180, ma di fatti sostanzialmente i servizi per le tossicodipendenze erano fuori sistema. Noi possiamo dire che la 685 e i due decreti aniasi hanno conferito una prima definizione e costruzione del fenomeno delle trovinità. In qualche modo le due leggi danno una specificità rispetto agli altri contesti, compresa la psichiatria, i culturali e i istituzionali, tentano di governare il fenomeno attraverso un proibizionismo sociale e anche di costruire una rappresentazione sociale che attribuisce un significato e un giudizio collettivo. Quando c'è un'interpretazione si dà un senso di sicurezza ai cittadini che anche se mantengono uno schema di allarme sociale riescono a interpretare un fenomeno, sono dei devianti, sono riprovati moralmente, devono andare ai servizi, che è una strategia istituzionale che ti dice che è possibile fare qualcosa per queste persone in questo senso di rassicurazione. E in questa fase, diciamo, la costruzione, il fenomeno, si costruisce attraverso i diversi fattori, l'intreccio tra proibizionismo sociale e paradigma morale, un forte giudizio del comportamento, dell'uso di droghe. Come dice Becker, trattare una persona deviante per un aspetto come se lo fosse per tutti gli altri produce una profezia che si autoavvera. Un numero elevato di persone che usano eroina si trovano in condizioni di illegalità, sono emarginate, esclusa, respinte da un giudizio morale collettivo, si organizzano in gruppi, producono subculture devianti, riproducono carriere devianti, come dice Becker. Entrano pesantemente nel circuito microcriminale, interiorizzano lo stigma e si identificano lo schema e supportano la profezia che è stato avvera. Cioè, in qualche modo acquisiscono questo spazio che gli viene destinato, in qualche modo, quando si che le aspettative si riconoscono, insomma, si avverino. Il paradigma morale indica la strada per una rappresentazione, la prima rappresentazione sociale. E' così che nasce il primo modello consumo marginalizzato, ma nacque in realtà il tossicodipendente. C'è un modello, una costruzione su cui si modelleranno tutti gli schemi interpretativi e le rappresentazioni sociali successive. Ancora oggi questo modello, in tutte le sue trasformazioni, è un modello diffuso. Quello, diciamo, è lo stampo di riferimento. E qui i servizi pubblici contribuiscono, che i servizi contribuiscono perché sono tutti giocati all'aggiungimento della mission. Questa è la mission di realizzità. La liberazione delle droghe col modello dell'assinenza. Le prime comunità terapeutiche introdurano il principio dell'incapacità di intendere di volere, il modello del date-off, annullano ogni coinvolgimento e protagonismo. Nasce San Patrignano, un grande esperimento di istituzione totale, di sfruttamento di massa degli intertanti. E anche le esperienze critiche, i servizi pubblici nelle comunità terapeutiche, stanno tutti dentro questa logica della incontrollabilità della droga. Certo, con una diversa declinazione, che è più centrata sul processo educativo, sulla critica allo stigma, ma comunque l'assinenza, anche se con migliore rigidità. Mi sono chiesto, ma il fatto che abbiamo vissuto questo momento di depenalizzazione, è stata un'occasione persa? Non saprei dirlo, forse non eravamo preparati, però posso credere che in realtà, ritengo che in realtà, la depenalizzazione posta all'interno di un modello culturale proibizionistico e con un mercato illegale, in forte evoluzione, ha fortemente ostacolato lo sviluppo di esperienze di uso sociale controllato dalle droghe e quindi di una rappresentazione tollerante, sociale, invece che facilitarle come si poteva aspettare. La volta avviene, nel 90, Craxi va negli Stati Uniti, alcuni ricorderanno, e ritorna con un impegno politico, la guarda alla droga, viene approvata la legge di Giovanna-Vassalli, introduce il proibizionismo penale con un articolo 73 e in più, ampia le sanzioni amministrative, sempre più un segmento del penale. Una forte opposizione politica, dei sinistri radicali, si costruisce un cartello, quindi una forte opposizione sociale, educale, non punire la legge approvata. Possiamo dire che il proibizionismo sociale si completò con il proibizionismo penale, quindi si è dato via la parte più buia della storia delle droghe in Italia che continua tutt'oggi. Le carceri cominciano a riempirsi di tossicodipendenti e le sanzioni amministrative sono uno strumento di limitazione di massa della libertà. Ma la storia continua perché vi sono altre discontinuità. Nel 93 vi è un referendum che abroga la dose media giornaliera, scusate, le sanzioni amministrative quindi depenalizza l'uso ma nel 2004 i duo Fini Giovanardi e il governo Berlisconi cercano di reintrodurre le norme abrogate da referendum e andare oltre addirittura l'aglio di bovino Vassagli. Si costruisce un nuovo cartello non incarceriamo il nostro crescere ma nel 2005 la legge passa all'interno del decreto delle Olimpiadi nel 2006 viene legge con un colpo di mano. Naturalmente vi sono eccezioni di incostituzionalità, vi è un ricorso e nel 2014 quindi passano circa nove anni la Corte Costituzionale emette la sentenza di incostituzionalità. Quindi si ritorna alle depenalizzazioni ma vi sono diversi pasticci all'interno della legge. nella realtà oggi il proibizionismo diciamo l'incrocio tra il proibizionismo sociale e penale è tutt'oggi attivo nelle carceri italiane abbiamo un terzo dei detenuti che è tossicodipendente o ha a che fare con un comportamento legato all'uso di droga. Vi sono quarantamila segnalazioni all'anno di sanzioni amministrative e quindicimila errorate delle quali tre quarti per cannabinone. Ma gli anni novanta sono anche gli anni paradossalmente in cui comincia a cambiare il fenomeno. Intanto si diffonde l'AIDS crea un nuovo allarme sociale si informa tra le persone che usano droghe con rischi legati all'illegalità e si richiede un maggiore controllo sanitario senza cambiare il modello dell'emergenza senza introdurre elementi più tolleranti e quindi i servizi non obbligano più all'assinenza. I tossicodipendenti si dice sono mantenuti in trattamento riducendo radicalmente i comportamenti più criminali si riduce la diffusione dell'AIDS perché si riducono i comportamenti a rischio e si diffonde un maggiore senso di sicurezza sociale ma rimane allarme sociale sul fenomeno quando si manifesta rimane il paradigma morale e proibizionistico. Le carceri sono sempre più pieni di tossicodipendenti e paradossalmente i tossicodipendenti fanno meno danni diciamo alla collettività ma subiscono solo su se stessi danni della legge ed è in questo contesto che si inizia a costituire il modello medico-patologico. La tossicodipendenza diventa una malattia quindi va curata per il tempo necessario non vi sono limiti non è più l'astinenza l'unico limite anche se è l'orizzonte di riferimento si attenua allo stigma e alla paura ma non si attenua al giudizio morale. Qui entro in campo le neuroscienze le neuroscienze forniscono la base scientifica al modello morale dell'incontrollabilità delle droghe il demone si biologizza sotto forma di nuclei del cervello di moleco di rasmettitori la malattia diventa cronico-recidivante dalla tossicodipendenza dall'addiction non si guarisce e chiaramente è un destino segnato a vita dalle persone che usano la droga sono malati a vita il destino di queste persone sembra disteso da una doppia istituzionalizzazione il carcere e la patologia cronica ma nel novanta cambia anche in modo strutturale il fenomeno vi sono nuovi modelli di consumo anche perché il mercato delle rovine si è saturato anche il mercato cerca nuovi sbocchi le culture giovanili aprono nuovi scenari i contesti del divertimento sono molteplici da revi illegali a tutte le articolazioni alle feste alle cosiddette movide vi sono brecce per i mercati ma anche usi e consumi critici diversi e innovative e si diffonde un modello di uso socialmente integrato delle droghe contemporaneamente i processi di impoverimento sociale ampliano l'area dei cittadini senza dimora tra questi molti consumatori processi migratori a loro volta si incrociano con l'uso di droghe e via un nuovo modello di consumo socialmente marginale diverso dal primo consumo che intanto quello dell'eroina si sta istituzionalizzando il sistema dei servizi è fermo agli anni 90 è chiuso nel modello ambulatoriale ospedaliero non riesce a intercettare questi nuovi modelli di uso e incontrarli e nello stesso tempo istituzionalizza sempre di più le persone in trattamento quindi crea un nuovo modello istituzionalizzato di uso la riduzione del danno negli anni 70 si diffonde in Italia e si afferma come la prospettiva in grado di attraversare e incontrare diversi modelli di uso e consumo e con una logica territoriale sia nella lettura complessa e non riduttiva dei processi sia dei modelli organizzati differenziati plurali e non in grado sia di accoglieri che sia di andare incontro vi sono già alcune pratiche implicite esplicite che iniziano esprimersi sia nei servizi pubblici generale comunità terapeutica nel frattempo ora la ripendenza è sempre più stretta come modello interpretativo per cercare di dare un senso a questi nuovi modelli di consumo a questa nuova articolazione del fenomeno ma il modello paralogico ci prova a moltiplicare i suoi tentacoli cerca di ingabbiare anche i consumi soprattutto quelli giovanili che invece in realtà risultano prevalentemente autoregolati gli unici rischi che presentano sono quelli dell'illegalità lo schema del disagio si viene resuscitato ma è fortemente inadeguato anch'esso stigmatizzante però si continua a parlare nuove dipendenze come espressione del disagio giovanile prefigurare anche nuove forme leggeri istituzionalizzazione compresa la psichiatrizzazione succede qui non riesco ad andare avanti scusatemi non riesco ad andare avanti che succede? mi aiutate non riesco ad andare avanti ecco qui ora io ho una prima riflessione mi sembra dal discorso che sto facendo che una delle differenze nostre è questa la dipendenza non va messa tra parentesi come la follia questa è la mia riflessione è provocatoria ma va fortemente criticata sul piano culturale e sociale la questione del cambiamento del lessico è centrale anche nelle nostre reti facciamo fatica emanciparci noi dobbiamo provare almeno tra di noi a parlare di modelli di consumo secondo lo schema droga 7 e 7 parliamo di controllo e di autoregolazione di influenze che ostacano di apprendimento e di competenze dei consumatori guardate vi sono velocemente vi voglio dire diversi elementi che mettono in evidenza la fallacia del modello patologico e neurobiologico e il suo intreccio con il modello penale milioni di persone che usano canna qui sono in completo equilibrio esistenziale che si autoregolano numerosissime ricerche internazionali dagli anni settanta in poi condotte anche in Italia mettono in evidenza che nei setti naturali un numero elevato di persone che usano droga dall'eroina alla cocaina si autoregolano non compaiono non sono viste perché non si rivolgono ai servizi anche se sono la maggioranza e qui è il modello dell'illusione clinica si accetta che le persone che frequentano qualche servizio terapeutico rappresentino la popolazione più ampia di persone con quel medesimo distrutto si scambia la parte per il tutto come dicono Patrizia e Jacob Cohen ma come dice Zimberg per capire come e perché alcuni consumatori perdessero il controllo avrei dovuto affrontare la questione cruciale di come e perché molti altri riuscissero ad avere un controllo e a mantenere ma questa concezione ufficiale ciò nonostante che considera la droga un demone un nemico un pericolo un mezzo per bruciare il cervello un agente che provoca malattie croniche eccetera eccetera che conduce a morte è ancora fortemente radicato ostacola fortemente gli apprendimenti sociali e il nostro obiettivo è di intervenire sui diversi livelli di costruzione di questa rappresentazione sociale in primo luogo le leggi ma anche i modelli organizzativi dei servizi le agenzie mediate che influenzano l'opinione pubblica e qui c'è una differenza ma anche un incrocio tra la salute mentale della nostra area parliamo di dinamiche di controllo per questo motivo di autoregolazione come elemento portante della nostra prospettiva dell'audizione del danno ma si se ne parlerà in un'altra sessione ora vorrei fare qualche proposta di prova di dialogo io dico nonostante tutto ciò che ho detto non si può negare che vi siano persone che usano droghe e vivono delle esperienze di sofferenze determinate o peggiorate dai meccanismi dallo stigma le discriminazioni creano sofferenze marginalità disagi vari e che sono profonde e ci interrogano su due variabili di assetti della persona e anche della sua stanza così come vi sono anche persone per esempio anche emigrate da altri paesi che usano droghe e che vivono sofferenze che si esprimono nella forma di disturbi etichettati da manuali diagnostici psichiatrici nei confronti delle quali si invita anche un doppio etichettamento la doppia di anni su una comorbidità ma queste persone che è una parte limitata dei consumatori ma che richiede un'attenzione ci fanno una doppia domanda che si colloca sui due binari del nostro impegno politico-culturale del nostro lavoro da una parte la messa tra parentesi e la fondata e dall'altra l'impegno attivo della critica alla dipendenza al modello della dipendenza alle regge e distingue che produce noi dobbiamo rispondere a queste domande a partire da queste nostre questa doppia collocazione e quindi rispetto a queste realtà si presenta come una trappola la discussione sui modelli separati delle nostre organizzazioni di servizi hanno più a che fare con identità corporative con meccanismi di risparmio della spesa poco con persone di diritto sono fuorvianti ci inducono a discutere se è nato prima la droga o la gallina se vede prima la droga o la follia quale etichettamento diventa prevalente intanto le persone continuano a scomparire sommesse dalle etichette diagnostiche del momento e a essere tenuti fuori dalla realtà sociale e dalla normalità è una sfida che dobbiamo condividere nell'ambito di una più generale strategia condivisa e all'interno di un incontro di un lavoro comune ed inaugurato abbiamo iniziato un dialogo l'ha detto Denisa Merini espresso da un documento comune tra forum droga cgl psichiatria democratica forum della salute mentale dobbiamo portarlo avanti incrociamo le nostre pratiche di destituzionalizzazione io direi che la nostra è la riduzione del danno è la nostra pratica di destituzionalizzazione la riduzione del danno è intesa come prospettiva ampia e trasversale un paradigma ospitale come ha detto Remo Bodei in suo scritto sul delito nell'ambito di questo luogo ospitale in continuo movimento le nostre pratiche sono impegnate a destituzionalizzare le persone che usano droghe in qualunque contesto dell'uso si trovano a innovare a reinventare azioni e a restituire la vita quotidiana liberata dagli stigmi esterni e interiorizzati come i diritti di tutti l'autoregolazione si apprende e si sostiene come competenze in questo processo noi senza cambiare leggi è difficile che possiamo portare completamente avanti questo processo il fallimento della quella alla droga e l'obiettivo del mondo senza droga richiede che si adotti una politica di regolazione sociale di controllo politico del fenomeno che per il nostro mondo è un obiettivo strategico quindi di penalizzare decriminalizzazione e legalizzazione vado oltre faccio giusto una veloce riferimento alla questione dei farmaci perché se ne parlerà ma è un argomento che mi è chiaro perché sia l'uso di psicofarmaci sia l'uso dei farmaci agonisti sostitutivi con il metadome e la buprenolfina stanno dentro all'interno di dispositivi e processi di istituzionalizzazione riproducono la patologia cronica rinvegliano la vita delle persone nei servizi e sia nelle prospettive della ricoveri che della riduzione del danno sono inseriti in processi di deistituzionalizzazione spostando l'asse sull'autogestione noi dobbiamo allargare queste pratiche di istituzionalizzazione discutere approfondirte un picco un riferimento a parte riguardo il problema dell'autorganizzazione noi quando parliamo di pari tendiamo un po' troppo a pensare che il pari deve essere considerato come un operatore nei servizi degli interventi e anche questo ma dobbiamo partire da un altro elemento più di base strutturato le persone che usano la droga sono un soggetto sociale e politico non riducibile a una competenza l'esperto di esperienze è molto più ricco di una figura professionale le persone che usano sostanze ci indicano la direzione delle politiche poi naturalmente i pari coinvolti negli interventi e nelle attività permettono che le attività risultino più aperte e capaci di intercettare le domande come dice Coleman il processo personale di guarigione ha nel suo stesso cuore la rivendicazione del potere personale è uno dei motivi del fallimento dell'approccio dell'empowerment questo ci deve far riflettere il suo difetto nel comprendere una delle fondamentali verità del potere che cioè non viene ceduto ma viene preso il ruolo dei professionisti dovrebbe essere quello di rinunciare al potere e l'utente deve essere parte attiva di riprendersi il proprio potere guardate Zimmerman ci indica cosa dobbiamo fare dobbiamo spingere a promuovere il benessere identificare i punti di forza incrementare le opportunità a lavorare con i partecipanti non al loro posto ora anche sul versante dell'aria delle persone che usano sostanze c'è un discorso analogo anche se su un crinale diverso nel 2014 a Genova fu scritta e fu presentata la carta di diritto delle persone che usano sostanze il principio di base era niente su di noi senza di noi siamo persone che usano e hanno usato sostanze persone prima di tutto nel 2019 nasce l'ITAMPUD che è la rete delle persone che usano sostanze e aderisce alla rete europea l'ITAMPUD e nel documento costitutivo si dice noi rivendichiamo il diritto delle persone che usano sostanze a essere al centro di ogni decisione in materia di droghi pare che vi siano i punti comuni così come il rapporto tra recovery e riduzione del danno tra le determinate azioni e autoregolazione se ne discuterai in una sessione in questo lo saltiamo ora una riflessione la destituzionalizzazione non può riguardare solo le istituzioni totali ma tutte le istituzioni che non si istituiscono continuamente dice Roberto Esporre e che si stabiliscono quindi non sono dinamicamente in continua ricostruzione uno schema che produce un modello stigmatizzato punto interrogativo questo queste impostazioni coincide con la logica che propone che proponeva Rotelli propose Rotelli diversi anni fa dell'istituzione inventata Rotelli dice giustamente la destituzionalizzazione non ha riguardato il manicomio ma la follia come istituzione e quindi il manicomio come istituzione del momento quindi va operata continuamente nei confronti di tutti quei processi che ingabbiano che non permettono alle persone di vivere nel sociale nelle relazioni in quel luogo affrontare e risolvere le criticità e la propria vita forse recuperare questa realtà dinamica istituente delle istituzioni significa inventarle e reinventarle ricordando però il mondico di Basaglio quando un'istituzione tende a dobbiamo ricordarlo anche per noi quando noi partecipiamo a costruire istituzioni quando un'istituzione tende a costituirsi a strutturarsi a diventare pervasiva e duratura vanno messi in discussione vanno attivati i processi di critica e di istituzionazioni continue credo che su questo bisogna discutere ampliando a tutti i soggetti sociali in particolare al terzo settore che parte di tutte le esperienze più importanti di entrambi i settori una strategia condivisa di progettazione di congestione insomma dobbiamo essere portatori di una nozione di pubblico allargato di un pubblico sociale e di un pubblico che considera l'autoorganizzazione come il punto di riferimento centrale mettiamo in comune le nostre critiche mettiamo in comunicazione i modelli di istituzionalizzazione ma evitiamo riduzionismi produciamo ricchezza mantenendo le differenze scambiandoci la nostra ospitalità reciproca senza confusione individuiamo alcune aree di azioni comune sia nei servizi pubblici che nel terzo settore anche per esempio nelle strutture residenziali dell'accoglienza che si occupano della cosiddetta doppia diagnosi ma anche delle iniziative politiche nella critica attiva ai modelli culturali in questo contesto quando parliamo di diritti credo dobbiamo parlarne su due versanti da una parte i diritti mettono in condizione le persone di poter affrontare le proprie criticità sia legate all'uso di droga che alla sofferenza da una protezione di forza la casa il reddito il lavoro cioè la città dei diritti come dice Refer ma per molte persone anche il diritto a scegliere i propri comportamenti evita rischi e problemi e restituisce cittadinanza di per sé chiaramente sono necessarie almeno due condizioni perché per rivendicare questi diritti l'autoorganizzazione e i servizi che rinunciano al potere e superano i modelli patologici l'ultima slide quindi è la questione della centralità del sociale ma anche del coinvolgimento di aree ampie dei migliori del sociale di altri soggetti che devono insieme a noi condurre questo percorso critico dobbiamo ripensare il welfare da assistenzialistico dobbiamo ripensare un welfare del comune che mette in condizione le persone di poter vivere in autonomia le proprie contraddizioni e la complessità delle relazioni che permette che i propri desideri e bisogni possano essere considerati come sfere del possibile una realtà che non stigmatizza e patologizza patologizza in modo pervasivo i comportamenti e non li controlla attraverso il sistema penale potrebbe consentire che ciò che chiamiamo follia e sospendiamo e ciò che chiamiamo uso e consumo di droghe ingabbiato nella dipendenza possono esprimersi nella loro autenticità e contradditorietà libera ma non è ancora arrivato questo tempo e allora manteniamo aperti i conflitti apriamo nuove contraddizioni partecipiamo a promuovere sempre più l'autorganizzazione restituiamo soggettività e ci siamo seduti dalla parte del torto e ci rimarremo seduti per un po' di tempo perché gli altri posti erano tutti occupati ma siamo realisti sogniamo l'impossibile grazie mi ho chiuso mi ho chiuso Denise se mi permettono di attivare l'audio si sente mi è stato riattivato l'audio prego Denise si ti sentiamo grazie scusami perché mi compariva la spinta che non era possibile riattivare l'audio grazie Stefano per la tua bellissima relazione grazie davvero io riprendo soltanto due considerazioni che tu hai fatto in conclusione della tua relazione perché mi sembrano importanti quando tu dici evitiamo riduzionismi condividiamo esperienze comuni ripensiamo il welfare lo dico perché dal mio parziale osservatorio parziale come osservatorio di parte ovviamente penso che in questo la riduzione del danno sia una cosa fondamentale importantissima la riduzione del danno che è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza nel 2017 ma che oggi è ancora lì latitante perché perché non è finanziata perché non ci sono rilevi per tutti i motivi che sappiamo ecco la riduzione del danno che non è una pratica ma è una politica che informa l'organizzazione dei serudizi aggiungo a questo tu l'hai citato il documento congiunto proprio perché dobbiamo condividere esperienze e abbiamo un obiettivo comune nell'ottica del servizio pubblico e della salute pubblica quel documento l'abbiamo condiviso come forum droghe cgl psichiatria democratica forum salute mentale che abbiamo inviato al ministero della salute alla conferenza stati regioni ad agenas per contestare il documento di agenas che non ha avuto nessuna risposta perché la brutalizzo ma il significato è questo di fatto gli accorpamenti significano riduzioni di servizi significano non significano razionalizzazioni come vorrebbero alcuni far apparire ma significano solo riduzioni di servizi significa allontanare le politiche della salute dai cittadini che ne hanno bisogno ecco per questo penso che serva anche a introdurre la relazione di Leopoldo Grosso psicologo presidente onorario del gruppo Apele che ha il titolo il rapporto tra psichiatria e consumi di droghe nell'ottica di quello appunto che finora ci siamo detti grazie Leopoldo a te la parola bene buongiorno a tutti e a tutte allora io inizio questa riflessione sul rapporto tra psichiatria e consumo di droghe quasi come una battuta diciamo che in Italia la psichiatria non si è occupata del consumo di droghe finché non si è imposta in qualche modo l'evidenza che alcuni loro pazienti in carico e in particolare pazienti dello spettro schizofrenico insieme alle terapie alla psicofarmacologia o al posto degli psicofarmaci facevano uso di sostanze psicoattive e per sostanze psicoattive non si intende solo alcol e tabacco alcuni dati forse già un po' invecchiati perché sono dell'inizio degli anni 2000 stimavano che tra il 20 e il 45% dei pazienti psichiatrici facesse uso di sostanze psicoattive illegali in realtà diciamo la psichiatria in Italia è giusto ed è corretto che non si occupi del consumo di droghe di per sé in un'epoca che potremmo definire di post-eroina semplificando molto ovviamente non solo si è affermata con chiarezza la distinzione anche se non è ancora di luogo comune tra il fenomeno del consumo da una parte e la cosiddetta dipendenza patologica dall'altra ma si mette in crisi lo stesso concetto di dipendenza tant'è che oggi viene preferita la dizione disturbo da usi sostanze pur con tutte le criticità insite in questa stessa dizione diciamo che soprattutto la sociologia a descriverci con accuratezza e rigore meglio di altre discipline come il consumo di droghe oggi obbedisca a modelli di fruizione funzionali autoregolati nella stragrande maggioranza dei consumi riflessivi moderati e tenuti dentro l'equilibrio della propria struttura di vita quindi salta l'equazione droga dipendenza anche se ahimè non è ancora saltata nell'opinione comune quindi si afferma un policonsumo sequenziale concomitante in una pratica diffusa e definibile in qualche modo anche come normalizzata nel momento in cui questa pratica non viene più stigmatizzata dai compagni dei consumatori che non sono consumatori come naturalmente allora i valori d'uso della fruizione del consumo sono intensificare ottenere piacere potenziare le capacità prestazionali facilitare la socialità e l'intimità proteggere dallo stress con tutto questo la psichiatria diciamo non ha nulla a che vedere non ha nulla a che spartire ed è bene che sia così c'è poi un segmento minoritario che si colloca su uno slippery ground su un terreno truciolevole una zona grigia su cui insiste anche l'osservatorio europeo di Lisbona in cui il consumo si connota con episodi di abuso ripetuto talvolta sfugge di mano la capacità di controllo la situazione viene delle condizioni di vita delle persone per qualche motivo può peggiorare saltano alcuni equilibri che sono consueti e subentrano invece dei periodaci ed avviene molto spesso talvolta una intensificazione dell'abitudine qui sappiamo quanto significativi in questa situazione possono essere dei servizi definibili come leggeri non stigmatizzanti di consultazione facilmente accessibili che aiutano a riacquisire una capacità di controllo e recuperare l'equilibrio che è in forza allora bisogna dirlo con chiarezza che anche i CERD e non solo i CSM qui in queste situazioni sono di troppo con procedure molto spesso pesanti stigmatizzanti e che non riescono a incrociare questo tipo di domanda allora questo è un altro motivo per cui andrebbe riscritta la carta dei servizi come noto oggi ancora ferma alla legge del 90 c'è infine un terzo segmento che è quello che viene definito della dipendenza patologica del disturbo d'uso di sostanza particolarmente evidente negli eroino dipendenti per via endovenosa nell'alcol dipendenza e tra le dipendenze comportamentali nei giocatori d'azzardo patologico e che però se dovessimo raffigurare questi tre segmenti in centimetri quindi molto spannometricamente ad occhio quindi per intuizione senza grande rigore scientifico noi diremmo che il primo segmento del consumo potrebbe misurare 10 centimetri quello dello slippery ground un centimetro e quello del disturbo d'uso di sostanze mezzo centimetro ecco giusto per dare vagamente un'idea delle proporzioni possibili ma è nei paesi anglosassori negli USA in particolare che verso la fine degli anni 80 e nei 90 si propone come quadro interpretativo della dipendenza patologica il concetto di autocura edward kanzian che è un americano di origine turco armene che era riparato in america docente dell'america school dell'università di orward docente di psichiatria che interpreta la dipendenza psicologica come un tentativo di autocura di utilizzare di automedicazione in cui sostanzialmente si utilizzano le droghe come farmaci per difendersi da stati dolorosi e insopportabili che sono prevalentemente degli stati affettivi non tollerabili allora il ricorso alle sostanze psichiative come tentativo di contenere e ridurre gli stati di sofferenza psichica copre una fenomenologia del malessere e della sofferenza diffusa e disorganizzata non strutturata ancora diciamo imprecisata non facilmente definibile e che ha a che fare diciamo con l'esistenza delle persone il che è molto diverso dalla psicologia quando invece la sofferenza mentale si organizza in quadri sintomatici e passa da uno stato prestrutturato ad uno stato strutturato e allora che l'organizzazione psicopatologica si impone con la sua forza avendo una specifica qualità e quindi dando un timbro particolare ad alcune espressioni della sofferenza manifesta e organizzata ed è a questo punto che si parla di diagnosi psichiatrica che si aggiunge alla diagnosi di tossicodipendenza e si formula il discorso concetto di doppia diagnosi e nasce in America in particolare quella disciplina denominata Addiction Psychiatry la psichiatria dell'addiction perché così la definisce l'APA l'American Psychiatric Association a cui fa capo il DSM nelle sue diverse edizioni allora è il criterio della perdita conclamata della capacità di autocontrollo del consumo che determina il disturbo da uso di sostanze questo fatto può a volte avvenire come tentativo di autocura a una sofferenza cronicizzata a una crisi a uno scompenso personale a un arresto evolutivo ebbene tutto questo viene forzatamente incanalato e condotto dentro la psichiatria nosografica del DSM quinto quindi alla formulazione diagnostica ufficiale di classificazione della sofferenza psichica cosa che ad esempio sembrerebbero non fare o lo fanno con molta più diciamo prudenza tutta la psichiatria di orientamento fenomenologico allora da una parte quindi si dà per scontato che dietro a ogni tossicodipendenza ci sia una potenziale diagnosi psichiatrica e di cui si va alla ricerca anche molto attivamente e infatti purtroppo diciamo la ricerca universitaria molto si è spostata sugli studi testistici della comorbidità tossicopsichiatrica quindi doppia diagnosi diventano tutte quelle persone dipendenti grave e gravose connotate da recidiva non compianti al trattamento bisognose di lunga assistenza in Italia i primi studi che in qualche modo si sono inseriti sul filone anglosassone americano in particolare sono quelli di Massimo Clerici che insieme a Gori è stato tra gli animatori di una famosa comunità terapeutica che è Cascina Verde una comunità lombarda le dice professore di psichiatria all'Università di Milano riprende gli studi epidemiologici americani portando e valutando qui in Italia l'estensione della comorbidità e quindi dell'incrocio tra dipendenza e problematica psichiatrica tra il 50 e l'80% delle persone con disturbo di sostanze allora la diffusione direi ormai avvenuta del concetto di doppia diagnosi rischia di essere pericolosa per più di un motivo intanto per la sua diciamo inconsistenza scientifica non dice nulla sull'eventuale punto più interessante e problematico che è l'interazione eventuale tra le due diagnosi e che cosa ne risulta probabilmente una configurazione terza e soprattutto diciamo pericolosa per il suo forte impatto stigmatizzante quindi già il concetto di doppia diagnosi rischia di essere utilizzato di per sé come una vera e propria diagnosi si sente dire nei servizi quel paziente è una doppia diagnosi che rivela un atteggiamento mentale che chiude invece di aprire assomigliando molto a quella che Stefano citava come una profezia che si autovera per cui i pazienti duali così etichettati rischiano di vedere ridurre le aspettative e le speranze di cambiamento da parte degli operatori nei loro confronti rispetto alla popolazione diciamo non duale chiamiamola così se vogliamo entrare in questo gergo allora l'etichettamento che cosa fa l'etichettamento come anche diceva Stefano fa della parte un tutto non dà assolutamente nessuna indicazione circa le abilità e le risorse da sviluppare che pur sono presente nell'individuo e soprattutto rinforza lo stigma interiorizzato della persona che si identifica sempre di più con la propria malattia a me è capitato purtroppo di avere una persona in consultazione che si è presentata dicendomi io sono una doppia diagnosi allora è più utile sicuramente cercare di capire se il quadro sintomatologico di tipo psichiatrico che talvolta fiora i nostri centrocrisi centrocrisi all'inizio quando ci lavoravo ancora io ricordavo che si facevano le disossifazioni le disintossicazioni e a volte poteva capitare che la disintossicazione quasi terminata qualche paziente raro sentisse le voci fondamentalmente e quindi evidenziasse uno scompenso psichico però è interessante forse allora più capire la questione note di battuta su cui sicuramente adesso non entro quando un disturbo psichico è presente tenete presente che il disturbo psichico più proprio il disturbo psicotico al massimo l'epidemiologia sembra evidenziare che sia presente nel 5% delle situazioni di dipendenza prevalgono prevalgono gli stati depressivi maggiori sono tutti diciamo elementi che nella tripartizione che si fa tra cosa viene prima e cosa viene dopo che può essere utile rispetto alle indicazioni operative per il trattamento eccetera eccetera sicuramente da una parte ci sono situazioni in cui il disturbo psichico precede l'uso di sostanze d'altra parte ci sono situazioni in cui diciamo il delirio psichico succede all'uso di sostanze il caso più eclatante sono le cosiddette psicosi chimiche le psicosi indotte da un abuso reiterato molto intenso di sostanze un abuso protratto vengono definite psicosi transitorie ma su questo chi si interessa può leggere di petta eccetera che definisce queste psicosi a induzione chimica parzialmente diversa dalle psicosi classiche organizzate e poi abbiamo le situazioni più tipiche più note conclamate di dipendenza in cui si osserva quello che viene definito un disturbo di personalità soprattutto di tipo borderline che appunto secondo questi studi che utilizzano molto la testistica e che sono anche criticati perché voglio dire questa testistica va utilizzata in periodi molto distanti dall'eventuale disintossicazione o quando la persona è intossicata e vanno ripetuti insomma quindi non sto a entrare dentro le cautele diciamo di tipo metodologico però anche qui l'associazione tra disturbo di personalità e diciamo dipendenza conclamata e disturbo da usi di sostanze viene ritenuta tra il 39 e il 75% delle persone con cosiddetta diagnosi duale però al di là di questi aspetti più circoscritti e quindi molto più limitati anche nel mondo del disturbo d'uso di sostanze quello che forse interessa sottolineare è quali sono oggi gli approdi più avanzati della psichiatria perché se sulle evidenze scientifiche dell'estensione a dismisura della doppia diagnosi c'è per fortuna ancora molta discussione e il dibattito è ancora aperto invece diciamo importanti passi avanti sono stati fatti anche sul piano del riconoscimento legislativo sul versante dei diritti umani e del rispetto delle persone in trattamento quindi la psichiatria in psichiatria la cultura dei diritti si dovrebbe appoggiare a sulla convenzione per i diritti delle persone con disabilità che è una convenzione ONU del 2006 recepita in Italia con la legge 18 del 2009 in cui si dice che a queste persone devono essere garantite le opportunità di vita dignitose e di qualità come per ogni altro cittadino a cui segue il piano di indirizzo per la riabilitazione del ministero della salute siamo già nel 2011 che supera le linee guida del 98 in cui il focus diabilitativo non è più sulla patologia ma invece sull'impatto che la patologia ha sulla vita del paziente in quanto disabilita la sua vita quotidiana e quindi propone e promuove la facilitazione da parte dei servizi per l'integrazione nella comunità locale viene introdotto il termine persona al posto del termine paziente quindi una persona portatrice di diritti e viene introdotto l'ICF l'International Classification Function in cui la prospettiva dei diritti soppianta in parte quella sanitaria e viene lo diceva già Stefano ma voglio riprenderlo perché è importante e viene portato avanti il concetto di recovery che restituisce al paziente la titolarità del suo percorso terapeutico e rehabilitativo e con esso anche la definizione degli obiettivi legati alla qualità della vita possibile quindi orientarsi verso recovery significa decentrarsi da una guarigione intesa come ritorno all'integrità precedente quindi da questo concetto di guarigione critica per aiutare invece la persona a fare che cosa? a riguadagnare il controllo sulla propria vita e a maturare un senso di sé positivo nonostante la persistenza della malattia e qui vediamo come il concetto di recovery diceva già Stefano ma io lo ripropongo con altrettanta forza la riduzione del danno e diciamo come questi aspetti in qualche modo convergono ultima questione poi chiudo il ruolo del privato sociale pur nelle contraddizioni dello sviluppo delle comunità sempre diciamo sul filo del rasoio tra essere una comunità fortemente democratica aperta al territorio e d'altra parte invece un eccesso di autoreferenzialità e rischio dell'istituzione totale hanno cercato comunque di rispondersi di rispondere alle situazioni più difficili hanno iniziato con il ruolo dei centri crisi e quindi comunità a tempo di pochi mesi che in altre regioni sono state definite come centro di osservazioni e diagnosi quindi di pronta accoglienza che garantivano un riparo alle persone un'autoprotezione di fronte alla crisi spesso farmacologica come per una persona tossicolipendente ma a volte anche a crisi striscianti che se non sono proprio vero scompenso di sé sono smarrimenti e sono diciamo perdita di consapevolezza rispetto a se stesso quindi con osservazione a 360 gradi sono aiutate le persone in qualche modo a cercare di superare il momento della crisi di qui da questi primi momenti le comunità alcune e qui c'è stato un forte dibattito quanto una comunità può specializzarsi per persone con dipendenza ad alta complessività e comunque questo fatto sì che rispetto al vecchio modello dell'autoaiuto gerarchico che aveva citato Stefano venisse fortemente più recuperato un filone di comunità psichiatrica quella che si fa alla comunità londinese di Maxwell Jones dove veniva in qualche modo valorizzato di più rispetto all'autoritarismo paternalistico dell'autoaiuto gerarchico un codice di accoglienza più di tipo materno che ha voluto dire l'individualizzazione dei programmi una maggiore flessibilità rispetto alle regole rispetto all'attività e alla gestione della quotidianità un trattamento della ricaduta che semplicemente non veniva veniva in qualche modo intesa come un'occasione di ridefinizione del programma stesso e il mutamento dell'obiettivo terapeutico finalizzato soprattutto a un reinsedimento mirato dopo la fase residenziale a un trattamento ambulatoriale e un reinsedimento nella comunità sociale in base ai tre principi del recovery della stabilizzazione e della riduzione del danno questo rispetto alle esperienze più gravi che gravose quindi ovviamente non entro si tratterà più avanti in queste tre giornate del contributo di quelli che possono essere gli sviluppi delle comunità terapeutiche non entro invece nelle diatribe che ho visto che anche Stefano ha tralasciato tra CERT ed ISM che pur sono all'ordine del giorno ma sulle quali ci sembra importante prescindere perché le questioni più importanti sono come si diceva un tempo a monte grazie grazie Leopoldo della tua relazione anch'essa ricchissima di spunti di riflessione mi piace sottolineare il modo in cui tu hai concluso la tua relazione perché appunto abbiamo problemi molto importanti temi importanti da affrontare che vanno oltre le diatribe tra SERP e DSM vero è scusatemi se ancora lo sottolineo che certe pulsioni che vengono dalla politica e dai nostri amministratori nascondono fanno velo a quello che purtroppo a cui stiamo assistendo purtroppo da troppi anni in sanità e nei servizi sociosanitari che è di fatto la riduzione dei servizi e quindi l'allontanamento poi delle risposte dalle persone che necessitano appunto di determinate risposte ai loro bisogni per questo prima dicevo anche che la riduzione del danno è uno strumento importantissimo perché non deve essere vissuta assolutamente come un intervento ma è veramente una visione politica di come si intende dare risposte ai bisogni dei cittadini di qualsiasi natura questi bisogni siano e per questo mi pare importante anche assolutamente importante la relazione l'intervento che ci farà adesso Mario Colucci psichiatra del dipartimento di salute mentale di Trieste perché intitolandosi dalla deistituzionalizzazione verso uno sguardo critico sulla follia proprio ci può far ragionare in maniera molto puntuale approfondita di come la deistituzionalizzazione sia appunto un modo di rispondere a bisogni che non sono legati ma che ci sono di rispondere in maniera adeguata appunto a questi bisogni alle persone che rappresentano certi bisogni che non possono essere istituzionalizzati chiusi in una comunità terapeutica in un luogo altro ma che necessita appunto di politica in grado di rispondere ai propri bisogni grazie la parola a Mario Colucci per la sua relazione grazie buongiorno innanzitutto un ringraziamento a Stefano Vecchio agli altri organizzatori per questo invito gradito di confronto che peraltro è un confronto non frequente per quanto estremamente necessario fra fra le realtà della diciamo che riguardano tutto ciò che sono diciamo l'uso di sostanze e dall'altro lato io userei il termine appunto salute mentale più che psichiatria questo sarà anche un passaggio finale del mio intervento io pensavo oggi appunto di impostarlo così cioè di partire dalla tematica della destituzionalizzazione e quindi anche con un riferimento diciamo di tipo storico critico quello che è successo in Italia e arrivare però anche all'attualità e segnatamente anche a ciò che ad esempio è stato detto e discusso recentemente nel giugno scorso alla conferenza nazionale della salute mentale che si è tenuta a Roma io partirei innanzitutto da un termine che a me sta caro ma mi sembra da quello che ho ascoltato è qualcosa che permia anche gli altri interventi e cioè il tema dell'atteggiamento critico l'atteggiamento critico per riprendere una diciamo una visione una citazione di Michel Foucault che però appartiene anche a Franco Basaglia è un atteggiamento che noi potremmo definire come un atteggiamento che sia morale sia politico ed è un atteggiamento di opposizione all'esistente di opposizione allo stato del mondo o almeno a un certo modo di vedere il mondo che porta evidentemente a una forma di antagonismo rispetto a quelli che sono i dispositivi di governo del mondo dispositivi che sono intessi per lo più come dispositivi che tendono a controllare la libertà o meglio ancora strutturare il campo di azione degli altri e su questo diciamo che si focalizza l'atteggiamento critico Foucault nell'83 quindi un anno prima di morire in un seminario il governo di sé e degli altri per spiegare questo tema dell'atteggiamento critico guarda caso fa riferimento proprio alle pratiche della psichiatria e riprende l'esempio della follia sappiamo quanto il tema della follia sia stato un tema centrale per l'analisi e lo studio di Michel Foucault e lui dice in fondo la follia deve essere studiata non come un oggetto naturale non è un oggetto invariante nella storia un oggetto immodificabile ma è un prodotto della storia e lo statuto di verità della follia è mutevole quindi è forse meglio definire la follia come un'esperienza all'interno della nostra cultura in cui si costituiscono si strutturano diversi saperi il sapere della medicina il sapere della psichiatria della psicologia ma anche altri saperi pensiamo ai saperi diciamo sociologici pensiamo oggi a tutto il grande contributo dei saperi antropologici con riferimento ad esempio alla psichiatria transculturale però è anche un'esperienza in cui si strutturano delle norme ed è ciò che permette di tagliare come dire il normale dal patologico tutto questo è un ambito per Foucault privilegiato un ambito privilegiato in cui porre sotto la nostra osservazione quelle che sono le arti del governo e dell'atteggiamento critico che è necessario adottare nei confronti delle arti di governo perché questo perché si strutturano delle particolari modalità di soggettivazione cioè di diventare soggetti e di diventare soggetti attraverso delle dinamiche contrapposte che possono essere di protagonismo o di assoggettamento ad esempio di affrontamento o di evitamento di resistenza o di accettazione di consenso o di rifiuto pensate Foucault lo definisce la scena classica dell'incontro tra lo psichiatra e il suo paziente all'interno dell'istituzione totale come si struttura l'essere psichiatra e l'essere paziente da differenti posizioni di potere in quell'incontro però potremmo oggi vederla anche in maniera molto più allargata rispetto a quella che è la nostra realtà di cura sul territorio e quindi l'esperienza di questa destituzionalizzazione innanzitutto l'esperienza di ciò che è stato in Italia ma anche nel resto del mondo ma in particolar modo in Italia l'adottare un atteggiamento critico l'adottare un atteggiamento critico che ha significato contrastare delle forme di governo sulla vita delle persone che poi andavano a influenzare il destino il destino sociale il destino esistenziale delle persone trattate come oggetti all'interno di istituzioni che erano istituzioni diciamole in maniera molto semplice in fondo che andavano a negare in primo luogo la dignità della persona in primo luogo andavano a negare il suo statuto di soggetto rendevano il soggetto un oggetto ecco e allora l'atteggiamento critico è proprio quello stato quello di provare a rovesciare queste istituzioni provare a rovesciare questi poteri o quantomeno ad allentare la presa di questi poteri dovete pensare che al di là di questo il gesto della destituzionalizzazione è stato anche un gesto molto complesso perché non è stato solo il rovesciamento di un'istituzione di un'organizzazione ma anche è stato un rovesciamento di ruoli ad esempio è stato un rovesciamento di saperi è stato un rovesciamento di pratiche condivise di pratiche convalidate di costruitudini e quindi questo demolire l'istituzione è stato sicuramente un rovesciare tutto questo però è stato anche un porsi il problema di come ricostruire tutto questo qualcuno ha citato prima Stefano Vecchio ha citato appunto il concetto di istituzione inventata un concetto introdotto da Franco Rotelli cioè l'idea che in fondo bisogna ripensare l'istituzione non possiamo fare a meno delle istituzioni purché le istituzioni siano ricostruite anche su basi che io definisco salutarmente precari e instabili perché instabili? perché le istituzioni devono poter essere continuamente rimodellate ridefinite anche continuamente ridevolite per ricostruirne delle altre ora dobbiamo pensare che tutto questo non ha niente a che vedere con la de-ospedalizzazione lo si è detto più volte non si trattava solo di questo della chiusura degli ospedali psichiatrici che comunque di per sé enormemente meritoria più volte l'abbiamo detto la legge 180 forse l'elemento più significativo oltre alla distruzione dell'ospedale psichiatra che è stata ad esempio l'eliminazione della termine di pericolosità da un testo di legge che riguardava la salute mentale e questo è un unicum nelle legislazioni mondiane ora al di là di questo c'è stato anche un bisogno di riconvertire delle risorse di riconvertire delle risorse che prima erano come dire delle risorse stagnanti delle risorse che rimanivano immobilizzate attorno al posto letto come da queste risorse bloccate si poteva passare un investimento sui territori sulle comunità a un investimento che permettesse di rimettere dentro la polis la città e le vite delle persone all'interno di questa polis storicamente ricordiamo che il termine istituzionalizzazione è un termine che nasce nel dopoguerra nasce in Inghilterra ricordiamo l'esperienza di Russell Burton Russell Burton era un medico dell'esercito inglese che durante la seconda guerra mondiale entra tra i primi in un campo di concentramento nazista Bergen-Belsen si rende conto delle condizioni tragiche estreme dei pochi internati che trova ancora viventi e quando poi in Inghilterra si specializza in psichiatria dopo la guerra e va a lavorare in un ospedale psichiatrico inglese deve constatare amaramente che sono condizioni sovrappunibili per certi versi quelli degli internati a quelli che lui aveva visto perlomeno rispetto a un processo che lui chiama istituzionalizzazione cioè un processo di passività di assoggettamento all'interno di un'istituzione totalitaria violenta di un'istituzione diciamo che rende oggetti le persone ma che soprattutto determina e questo è un aspetto importante un grave impoverimento cognitivo delle persone quindi sovrappone a quella che poteva essere una prima diagnosi di malattia per la quale si è rientrata in un ospedale psichiatrico un qualcosa di ancora peggiore cioè una sindrome di istituzionalizzazione che provocava il peggioramento delle della condizione iniziale ecco una una osservazione inquietante che non viene citata spesso è che Barton osserva che la sindrome di istituzionalizzazione non colpisce soltanto gli internati ma colpisce anche il personale curante anche il personale curante all'interno di istituzioni chiuse di istituzioni in cui vige un pessimismo terapeutico in cui ci sono pratiche violente di contenzione fisica di porte chiuse di elettroshock va incontro a un impoverimento affettivo e cognitivo questo è un elemento estremamente inquietante di questo poi hanno parlato c'è l'impoverimento il vuoto emozionale hanno parlato altri autori pensiamo a Goffman in Asylums pensiamo a Martin a Stanton a Schwarz quando parlano di rimpicciolimento dell'io pensiamo a Canne e Kaplan che parlano di azioni regressiva esercitata dai meccanismi di potere coercitivo pensiamo a Basaglia che a un certo punto da da uomo di cultura preferisce una citazione più letteraria a cui lui tiene molto cioè Primo Levi se questo è un uomo si immagini dice Primo Levi ora un uomo a cui insieme con le persone amate vengono tolti la sua casa le sue abitudini i suoi abiti tutto infine letteralmente tutto quanto possiede sarà un uomo vuoto ridotto a sofferenze e bisogno dimentico di dignità e discernimento poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso e questa è una bellissima definizione di che cos'è l'impoverimento cognitivo che colpisce l'internato ora Basaglia sappiamo si spinge fino in fondo e celebre la sua allocuzione il suo intervento nel 64 al primo convegno internazionale di psichiatria sociale quando lui propone davanti ai colleghi inglesi che stimava e da cui era stimato per aver anche fatto un periodo con Maxwell Jones questo titolo la distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione perché Basaglia spinge fino in fondo già dalla sua esperienza di Gorizia questo tema della comunità terapeutica cioè lui dice la comunità terapeutica è sicuramente uno strumento importantissimo perché è uno strumento che riattiva una comunicazione di tipo orizzontale che permette un protagonismo delle persone che ricentra non sugli aspetti di malattia ma sugli aspetti di quotidianità la comunicazione fra le persone che abbatte drasticamente i livelli di violenza all'interno dell'ospedale e tuttavia se la comunità terapeutica non è in grado di tutelare anche le voci di coloro che dissentono di coloro che contestano paradossalmente di coloro che alla comunità terapeutica non vogliono partecipare ebbene e si perde quella risorsa preziosa che è quella di una sorta di forza intatta della follia di ciò che è rimasto di intatto dopo anni di istituzionalizzazione cioè di coloro che ancora resistono alla macchina della psichiatria e lui dice in fondo dobbiamo accettare questa contestazione permanente e dobbiamo accettare anche il fatto che la comunità terapeutica all'interno dell'ospedale psichiatrico rischia di far sopravvivere l'ospedale psichiatrico cioè migliorandolo edulcorandolo rischia di non vedere che il problema non è migliorare le tecniche di lavoro all'interno dell'ospedale ma è l'ospedale in quanto tale e questa è l'intuizione di Basaglia poi sappiamo che Gorizia non è l'ambiente cioè nonostante l'esperienza straordinaria dal 61 al 72 poi l'amministrazione provinciale non permette a Basaglia di realizzare all'esterno dell'ospedale quello di cui lui necessita e quindi Basaglia sappiamo poi andrà a Trieste molti dei suoi Goriziani andranno anche a Trieste altri verranno da altre parti d'Italia però altre situazioni si creeranno in Italia Rezzo Perugia Napoli eccetera ora che cosa accade accade che in questa fase di esplosione di esperienze in cui si parte già sulla con l'obiettivo che l'ospedale va chiuso e l'ospedale di Trieste viene chiuso poi nel giro di sette anni otto anni quello che è importante è che bisogna contrastare quello che è la passivizzazione cioè il rinchiudere la persona all'interno di un ruolo passivo di un ruolo subordinato che è la cifra la matrice dell'istituzione totale e che però non deve diventare la matrice neanche dei novelli centri di salute mentale cioè come si combatte la subordinazione della persona la sua passivizzazione l'essere come direbbero gli inglesi in una posizione down rispetto a una posizione up che è quella del curante ecco queste sono tutte domande fondamentali cioè come possiamo spezzare quell'immagine dell'uomo immobile dell'uomo senza futuro che era un po' l'immagine dell'uomo istituzionalizzato come possiamo realizzare un'uguaglianza di parole tra i vari attori sulla scena istituzionale sapendo che la medicina comunque non tollera l'uguaglianza dei saperi non tollera il fatto che il sapere scientifico possa essere messo sullo stesso livello del sapere di chi attraversa l'esperienza della malattia e sappiamo invece quanto oggi è importante l'esperienza di coloro che vengono definiti con un termine inglese i cosiddetti peer peer worker cioè coloro che hanno attraversato che possono essere veramente di grandissimo ausilio aiuto nella nelle pratiche della cura perché conoscono dall'interno l'essere il passare attraverso l'esperienza del disagio e della malattia ora tutto questo è stato importante nella destituzionalizzazione sappiamo che diciamo la restituzione di responsabilità di cittadinanza di protagonismo è passato attraverso una miriade a Trieste i centri di salute mentale aperti sulle 24 ore ma anche le cooperative sociali anche tutto ciò che ha riguardato la costruzione di una residenzialità alternativa di appartamenti centri diurni tutte le occasioni dal caffè all'hotel alla palestra tutti quelli che sono luoghi di scambio come direbbe Saraceno luoghi di negozio il negozio è una bella parola negozio significa negare l'ozio dice Saraceno ebbene l'ozio era quello della passività dell'immobilità del manicomio non la consegna all'inattività che era tipica dell'ospedale psichiatrico il negozio è la contrattazione lo scambio è il ritornare nella polis è il ritornare nella rete sociale che è una rete di socialità di senso di solidarietà di produzione di vita anche di dissipazione di energia nel senso positivo anche di perdita anche di spesa ebbene tutto questo ha significato la costruzione di qualcosa che non è la psichiatria che è la salute mentale qualcosa che significa guardare in un'ottica complessiva la vita delle persone non guardare soltanto la malattia significa ricostruire le competenze delle persone le loro risorse che spesso devono essere come dire riviste riconvertite riadattate rimodulate e ha significato incidere anche sulle rappresentazioni della dello star male o dello star bene che sono non solo le rappresentazioni che ha la popolazione generale ma che hanno anche gli operatori stessi coloro che lavorano le famiglie ha significato ovviamente trasformare tutte quelle norme quelle procedure della pubblica amministrazione dell'organizzazione sanitaria l'interlocuzione ad esempio col mondo della giustizia noi sappiamo che questi processi hanno visto l'Italia protagonista e sicuramente l'Italia può vantare questo questo primato è vero pure che è cambiato l'abbiamo detto a proposito dell'uso di sostanze anche ovviamente nella salute mentale è cambiata moltissimo quella che potremmo dire l'utenza oggi sempre per riprendere Benedetto Saraceno abbiamo di fronte una sofferenza urbana che è qualcosa di più vasto della semplice patologia psichica è qualcosa che riguarda la marginalità l'esclusione la devianza l'essere in periferia essere in periferia non solo geograficamente ma anche essere in periferia rispetto alla vita rispetto alla alla produzione e quindi tutto questo è un un nuovo campo di interesse un nuovo campo di attenzione verso il quale bisogna avere come dire una dotazione nuova di esperienze una dotazione nuova di esperienze che sicuramente la destituzionalizzazione l'ha data partendo da quell'atteggiamento critico di cui parlavo all'inizio rispetto all'istituzione totale va detto però anche che oggi e questo è un punto che pongo oggi ci troviamo di fronte innanzitutto a una coartazione di risorse per cui coartazione di risorse che si spera il il nuovo piano di recovery diciamo di resilienza possa possa in qualche maniera ristabilire però facciamo attenzione non dobbiamo aspettarci tantissimo perché il problema non è soltanto le risorse ma come queste risorse verranno impiegate verranno verranno spese cioè se le risorse verranno spese nuovamente per costruire dei reparti psichiatrici di piano di secura o un modello di psichiatria centrato in maniera ospedalocentrica quindi sull'ospedale stiamo lontani da quello che oggi è necessario nella conferenza del 25 e del 26 giugno scorso la seconda conferenza nazionale di salute mentale molto importante come evento pensate che la precedente era stata fatta nel 2001 quindi sono passati vent'anni e in questa conferenza innanzitutto si è scelta una linea allargata cioè si sono invitati molti protagonisti molti protagonisti quindi non soltanto coloro che lavorano nella salute mentale ma anche le associazioni di utenti di familiari le cooperative sociali vari esponenti diciamo in natura politica istituzionale diverse società scientifiche da questo punto di vista è veramente assurda la critica che viene rivolta dalla società italiana di psichiatria che sdegnosamente si tira fuori sdegnosamente si tira fuori sostenendo appunto che non sono stati tenuti in conto cioè che è stato un indito autoreferenziale che il mondo della ricerca e della formazione è stato escluso vi dico soltanto che c'erano circa 130 relatori in otto sessioni c'erano molte altre società scientifiche c'erano diversi docenti universitari quindi è un'accusa diciamo assurda che però nasconde che cosa nasconde che cosa innanzitutto che si vuole ancora da parte di qualcuno degli eventi di addetti ai lavori c'è solo coloro che hanno un certo tipo di sapere psichiatrico possono partecipare a questo tipo di conferenze e poi perché continuare a chiamarle conferenze di salute mentale questo è un po' l'accusa perché dire per una salute mentale di comunità questo era il titolo non c'è il termine psichiatria si continua a non capire a non cogliere in maniera ovviamente colpevole che la salute mentale è qualcosa di ben più vasto della psichiatria che la comprende evidentemente la psichiatria che la ingloba però non è soltanto psichiatria e questo è guardate non è soltanto un problema terminologico significa non aver assunto tutto ciò che è accaduto a partire dagli anni 60 e 70 in Italia non soltanto ovviamente la legge 180 ma anche tutto ciò che ha significato in Italia lavorare sui territori lavorare nelle comunità lavorare per un protagonismo lavorare per un per un fare rete lavorare diciamo non soltanto per una clinica classica quella dell'inquadramento diagnostico quella del trattamento farmacologico psicoterapeutico quando va bene psicoterapeutico ma lavorare per una clinica del legame sociale cioè una clinica che tiene conto dei determinanti sociali dei determinanti economici che riesca a lavorare sull'asse dell'abitare sull'asse della socialità sull'asse dell'inclusione del lavoro sul sostegno delle reti sociali di riferimento no? questo è sulla valorizzazione dei capitali sociali delle comunità ebbene questa è salute mentale che come vedete è qualcosa che va ben oltre la clinica classica della psichiatria questo purtroppo oggi è ancora motivo di dissidio sapete le polemiche che sono scoppiate nei mesi scorsi a partire a passare da un concorso contestatissimo che c'è stato a Trieste che ha avuto una rilevanza nazionale internazionale che purtroppo mi ha coinvolto ma non è solo quello quella è stata un po' la miccia che ha innescato una polemica di tipo politico di tipo culturale in Italia rispetto a questa benedetta contrapposizione secondo me mal descritta tra basagliani e non basagliani non si trattava di questo secondo me è una contrapposizione più che legittima tra chi intende la pratica della cura una pratica di salute mentale e chi la intende semplicemente come una risposta di tipo psichiatrico ecco si è parlato durante la conferenza di temi che a noi stanno molto cari come ad esempio contenere nei prossimi tre anni la contenzione fisica che è una piaga dei reparti psichiatrici italiani soltanto 20 di anni sicura su 320 lavorano a porti aperte senza contenzioni e si può fare si può fare ma non lo si fa perché è evidente che c'è un diverso modo di approcciare le persone c'è una clinica molto legata al camice bianco molto legata alla distanza molto legata all'oggettivazione come abbiamo detto prima e poi ci sono state sicuramente delle interessanti interventi che riguardano la formazione degli operatori possiamo oggi accontentarci di una formazione degli operatori che si sta impoverendo sempre di più io parlo da psichiatra di quello che accade spesso nelle cliniche universitarie in cui ciò che viene dispensato ai giovani colleghi è soltanto un sapere di tipo farmacologico oppure un sapere che riguarda il brain imaging cioè che riguarda in fondo delle modalità di tipo biomedico ma tutti quei saperi che hanno formato anche noi che erano saperi che attenevano anche ad altro io vengo da una scuola in cui ho studiato farmacologia ma ho studiato anche sistemico ho studiato psicoanalisi ho studiato psichiatria sociale ho letto Basaglia dove c'era ancora sto parlando degli anni 80 una varietà di indirizzi una varietà di possibilità di apprendere qualcosa in più che ne è di questi saperi che ne è dei saperi nati durante il percorso di deistituzionalizzazione che ne è di tutto ciò che abbiamo in quegli anni letto e che oggi viene diciamo liquidato come se fosse ideologia o intellettualismo ecco io direi che questo elemento della formazione degli operatori è un elemento centrale un elemento che oggi non possiamo più diciamo evitare di considerare perché effettivamente ci troviamo in una realtà in cui tutto sta diventando prestazione prestazionale sta diventando diciamo attenzione a quelle che sono l'erogazione di RG o l'erogazione di prestazioni adeguate e competenti ecco vorrei concludere su questo noi quando parliamo di salute mentale siamo stati capaci questo lo dico anche in maniera critica siamo stati capaci di proporre qualcosa che mettesse in dubbio ad esempio i processi di aziendalizzazione delle nostre aziende sanitarie che poi hanno corrisposto spesso a un impoverimento culturale oggi in un dipartimento di salute mentale si parla di obiettivi di risultato si parla di prestazioni si parla di come contare il minutaggio delle prestazioni cioè è entrata quella che Mark Fisher sostiene nel suo libro realismo capitalista è entrata questa ontologia imprenditoriale per la quale ormai è semplicemente ovvio dice lui che tutto dalla salute all'educazione tutto va gestito come se si trattasse di un'azienda ecco io dico oggi nella formazione degli operatori oltre ai saperi acquisiti oltre ai saperi critici di tipo storico critico andrebbe sicuramente diciamo favorita un atteggiamento critico rispetto a quello che è diventato la pervassività e la prepotenza di un pensiero di tipo neoliberale che ovviamente fa dell'ontologia imprenditoriale il criterio assoluto io mi fermerei qui aspettando diciamo un dibattito grazie grazie dottor Colucci come non condividere soprattutto le sue ultime riflessioni che sono poi quello che io avevo anche provato nelle mie introduzioni a dire perché l'aziendalizzazione il ragionare per obiettivi per minutaggi e quanto di più spersonalizzante poi ci possa essere nella presa in carico delle persone nella cura delle persone e per questo penso che siano importantissime queste tre giornate di summer school che mettono insieme i temi della salute di chi consuma droga e della salute mentale proponendo un punto di vista diverso da quello che ci vogliono oggi proporre scusate se insisto ma per me è proprio dirimente questa cosa quello che ci vogliono proporre con accorpamenti che non sono condivisioni di saperi condivisioni di pratiche ma che alla fine sono solo e soltanto riduzioni di servizi in un'ottica economicista e basta io mi fermo qui perché sono già le 12 e 55 so che ci sono due domande due interventi da parte dei partecipanti alla summer per cui chiedo ad assan come come fare per poter dar loro la parola e poter se abbiamo Elena Ravazzi qui stiamo chiedendo di riattivare l'audio però forse in questo momento non è disponibile quindi diamo la parola finché non scusate la versione domestica buongiorno a tutti oggi ero a casa a seguire corsi prego no io non avevo domande avevo semplicemente condiviso un pochino il mio punto di vista perché lavoro per Cascina Verde da 12 anni quindi non ho mai conosciuto clerici però so come Cascina Verde spesso è nota per essere la comunità delle doppie diagnosi no? abbiamo pagato noi come tante realtà la no? l'istituzionalizzazione rigida è nato prima l'uovo la gallina ma non è concordo con quello che dite quindi con la possibilità di andare oltre degli schemi adesso ascoltavo Amerini è vero il minutaggio l'ontologia dell'aziendalizzazione impoverisce eccetera purtroppo però per esistere come realtà comunità d'offerta tu devi sottostare a tutte queste queste leggi no? se non hai il minutaggio non ti danno l'accreditamento se non hai l'accreditamento io mi scontro da anni perché sto cercando di riaprire di aprire un altro modulo abitativo di aprire i reinserimenti perché le comunità meravigliose funzionano mille impianti teorici però dopo questa gente sul territorio che cosa fa? è chiaro che poi si cronicizza ma si cronicizza perché non c'è un luogo che le accoglie e allora serve il reinserimento sono mosche bianche quindi quando mi trovo a cercare di aprire luoghi nuovi ma il minutaggio ma l'accreditamento ma TRR o DD ma basta soglia o e però si va cambiato il sistema concordo insomma con quello che dite voi quindi in realtà io non avevo una domanda ho condiviso in chat forse qualcuno mi ha chiesto delle cose noi non trattiamo non eroghiamo ai servizi in questo momento stiamo pensando sì di diventare una realtà un po' intermedia ma è tutto in trasformazione lavoriamo con la recovery abbiamo fatto una formazione sulla recovery con Piano del Bosco un paio di anni fa cerchiamo di applicarla nelle nostre unità d'offerta lavoriamo sulla riduzione del danno in particolare io il reinserimento se non lavorassi sulla riduzione del danno non saprei come fare ma anche nelle comunità e su come la dipendenza spesso sia simbolica per quella persona ma identitaria cioè mi serve per ridurre un sintomo di sofferenza psichica mi serve per esistere nel mio sistema d'origine ma anche per dissociarmi dal mio sistema d'origine allora funziono poi molto bene in comunità mi rimetti nel mio sistema d'origine di provenienza nel mio contesto io mi devo ritossicizzare per avere un'identità separata quindi stiamo cercando di lavorare con tutto questo uscendo un po' dalle contraddizioni è di Dio non è di Dio ma questo ce lo impone ancora il sistema e sì e servono nuovi punti di vista e portare delle proposte in politica però le politiche sociali chiaramente questo era un po' il mio pensiero scusate sì penso proprio che uno dei nostri compiti per ciò che ciascuno di noi rappresenta sia quello di fare rete di portare un punto di vista diverso perché cambino le politiche dei servizi perché altrimenti tutto quello che si dice anche di personalizzazione umanizzazione mettere al centro la persona sono parole vuote che poi non hanno assolutamente nessun riscontro nelle pratiche quotidiane che invece si mettono in atto per questo dicevo la riduzione del danno non è un servizio ma è una politica perché quando si parla di riduzione del danno non si può parlare per esempio di minutaggi o di accreditamenti basati su che ne so per esempio professioni esclusivamente sanitari c'è bisogno di saperi diversi c'è bisogno di saperi condivisi c'è bisogno di prossimità e non solo e soltanto di minuti di prestazioni e di tecniche non so se dovevo intervenire ma l'intervento che abbiamo appena ascoltato era davvero stimolante da questo punto di vista credo che adesso Hassan aiutami si dà la parola a Maurizio o a Maurizio o a Maurizio per la sua il suo intervento la sua domanda e poi i relatori magari rispondono a queste prime due questo lo decidi tu tu mi dici e io faccio grazie tocca a me bene buongiorno a tutti evidentemente grazie per 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 l'organizzazione di fare un drogo di questa di questa summer school io vorrei riprendere un paio di aspetti di quelli accennati comunque sviluppati da Leopoldo Grosso che mi hanno colpito mi hanno colpito nel senso che mi trovo in sintonia non è una una novità ma mi trovo in sintonia con quello che affermava lui e hanno a che fare con un aspetto di carattere teoretico sulla sulla questione del consumo di sostanze e io avrò lo spazio sabato per intervenire ma quello spazio sarà dedicato eminentemente alle questioni alle ricadute ai problemi alle prospettive di carattere di tipo istituzionale quindi istituzionale di tipo organizzativo istituzionale quindi approfitto di questo spazio i due punti che mi sono sembrati importanti tra gli altri accennati o detti o sviluppati da Leopoldo sono il primo è bisogna vedere cosa avviene prima e cosa avviene dopo mi pare testuale cioè se prima avviene il disagio psichico o prima avviene il consumo di sostanze che produce il disagio psichico il secondo punto è che lui riporta in maniera precisa e puntuale tutta una linea di pensiero per cui il consumo di sostanze è molto spesso una risposta al disagio crescente interno mi sembra anche che Mario Colucci ne abbia fatto riferimento a questo cioè come le sostanze di alcune sostanze in particolare danno un risultato che è quello di ridurre i livelli di angoscia di confusione di tipo interno allora se mettiamo insieme queste due cose e vediamo l'attualità ben miseranda pur se vincente della psichiatria in relazione con i consumi di sostanze vediamo che c'è un grosso tra parentesi una grossa contraddizione mi riferisco soprattutto da una parte alla questione appunto citata ricordata della doppia diagnosi per cui sono cresciuti anche determinate strutture residenziali come specializzate in doppia diagnosi ma si è fatto tutto un lavoro teoricamente per attrezzare anche i servizi pubblici rispetto alla questione della doppia diagnosi e dall'altra la questione che io più volte cito delle come possiamo definirle delle sentenze che vengono incluse in quella accidenti di frase di cinque parole che è a carico dell'associazione psichiatrica americana e dell'associazione della medicina delle dipendenze americana e cioè che dice che l'addiction è una malattia cronica recidivante primaria del cervello e qui ritorna la questione che Colucci ricordava brain imaging eccetera allora in queste cinque parole questi cinque concetti c'è tutta una ideologia e una serie di conseguenze ci sono perché mi riferisco soprattutto a quello che mi interessa rispetto alle affermazioni dell'opoldo primaria cioè questa questa frase include l'idea che viene la dipendenza produce il se è primaria produce il disagio psichico allora da una parte abbiamo una parte del mondo medico e psichiatrico che dice questo e dall'altra abbiamo invece un'altra parte della psichiatria che parla di primarietà del problema appunto nel tema della doppia diagnosi primarietà del problema delle sofferenze psichiche allora io volevo rilanciare ai relatori questa questione nessuna delle due è per me accettabile né quella di dire doppia diagnosi e quindi primarietà del disagio psichico e quindi conseguenze psichiatriche strette e dall'altra è quella di dire che il consumo di sostanze sarebbe il produttore di problemi psichiatrici o psichici o psicologici perché così è certamente ma bisogna intendersi sul termine primario grazie grazie maurizio io a questo punto darei la parola ai relatori per le risposte ai temi che sono stati qui sollevati chi vuole intervenire se non vuole intervenire nessuno sblocco un po' con la situazione io magari e sì rispetto all'intervento di Cascina Verde che io conosco solo di nome anche perché quando dirigevo il dipartimento noi abbiamo avuto estrema difficoltà ad avere una lista di attesa lunghissima quindi posso entrare poco nel merito dell'esperienza però io credo che sarebbe interessante che tra tutte le strutture che si occupano di questo oggetto particolare che è questa doppia questa specie di Giano Bifronter che la cosiddetta doppia di anni c'era la coesistenza di due realtà di etichettamento etichettate di cui non conosciamo granché potrebbe essere utile fare degli approfondimenti anche successivi diciamo alla Summer anche considerando le sezioni successive particolari dico quella che riguarda l'approfondimento sull'uso degli psicofarmaci ad esempio in contemporanea sugli agonisti sostitutivi su come possono essere può essere modificato questo modo interviene sulla recovery sarebbe interessante poter ragionare in questi temi e anche avere una rete di strutture che si confrontano tra loro che insieme ai servizi pubblici provano a a ragionare a invertire un po' la rotta dentro la quale anche le chiusure dentro le quali si ritrovano l'accreditamento dico una cosa velocissima io sono convinto che va modificato l'accreditamento soprattutto andrebbe introdotto un accreditamento integrato non vado molto oltre questo questo termine io credo che oggi i sistemi di servizi vanno verso un'integrazione cioè un'esternalizzazione dei servizi ma dovrebbero come dire co-progettare co-gestire insieme le realtà questo è un discorso che va approfondito in un'altra serie sulle cose che dice Maurizio Coletti io mi sfondo giusto con una battuta perché l'ho detto anche ho provato a dirlo nella mia relazione io non credo che il problema sia è nato prima l'uovo o la gallina certo è possibile approfondire diciamo la dinamica che pongono alcune persone che usano sostanze nello stesso tempo vivono dalle sofferenze guardate io sono convinto che la sofferenza delle persone che usano sostanze è legata prevalentemente ai processi di stigmatizzazione e spesso anche di marginalizzazione naturalmente quindi insomma ripropongo lo schema di di Zimberg no il drag di per sé non ci fa capire che anche noi dobbiamo farlo interagire con la persona il set con tutte le sue caratteristiche ed anche la sua fase esistenziale del momento con il modello di uso più che col drag e con il setting leggi influenze sociali con testi anche fisici diceva Zimberg attivanti penso che apriamo poco anche quando ci riferiamo a sofferenze più profonde le quali che ne so vi sono quelle tracce sulla persona o incorporate sempre dello stigma che fanno riferimento all'etichettamento cosiddetto psichiatrico ai due etichettamenti io credo che noi dobbiamo provare a liberarci di questi luoghi di questi contesti e quindi piuttosto che capire cosa da dove si è partiti noi dobbiamo cercare di capire cosa sta accadendo e per fare questo dobbiamo liberarci di queste incrustazioni di queste sovrastrutture che sono sovrastrutture incorporate quindi bio sovrastrutture le potremo definire e provare a utilizzare quegli elementi critici che noi abbiamo proviamo a mettere in atto i nostri diversi processi di istituzionalizzazione io continuo a chiamarli così non so se Mario Corucci è d'accordo io credo che oggi anche nella fase del cosiddetto territorio anche diciamo dell'area della salute mentale vi sono processi di istituzionalizzazione che vanno avanti gli psicofarmaci lui parlava del potente dell'uso del ricovero 4 ma nella nostra realtà diciamo dei servizi che si occupano di persone che si usano sostanze noi dobbiamo provare a innovare in questo e mettere in discussione proprio anche i termini che utilizziamo perché a partire da questo che forse possiamo produrre un pensiero critico all'altezza dei tempi e riprodurlo continuamente quindi da questo punto di vista io non lo proverei Maurizio come un problema cioè io penso che sia una trappola di chi nasce prima mentre la questione è quella che io dico anche i fenomenologi lui ha citato Gilberto Ripetta anche lì io credo che non metto in discussione come l'intossicazione possa determinare un'alterazione la volta la volta la volta la volta metto in discussione il fatto che di per sé noi possiamo pensare che sia l'unico fattore che nella complessità dell'esistenza diceva Basaglia distesa tra la vita e la morte questo insomma si possa possa orientare il nostro punto di vista questo dovrebbe significare anche che noi dovremmo aprirci no quindi cedere potere come diceva ancora ma aprirci di più forza le persone capire come le persone possono parlare raccontarsi ci sono molte esperienze anche dell'uso dei psicofarmaci in questo senso ma anche la nostra area ci sono molte esperienze in questo noi dobbiamo aprirci a questo essere disponibili a mettere in discussione nei nostri cornici in questo senso questo può significare cedere ai poteri ma cedere ai poteri scusate la lunghezza significa arricchimento anche per chi lavora per chi opera sia per chi opera professionalmente sia per chi interviene nei movimenti della società civile Mario solo una breve annotazione sì scusa solo una breve annotazione nell'ambito dell'addizione del paradigma bio psico sociale su cui si basano un po' tutte le interpretazioni diciamo oggi più 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 accreditate aggiornate del disturbo di sostanze io rimango francamente ancora abbastanza fedele all'idea che ci sia una sofferenza chiamiamola esistenziale che ha varie connotazioni varie origini e che si inserisce appunto anche nella nella storia nella biografia del soggetto che sicuramente tenendo presente appunto drug setting che in qualche modo facilita la seconda remunerazione dell'uso di determinate sostanze ciascuna la sua che in qualche modo restituisce diciamo un soffio un breve agio psichico chi sta in difficoltà quindi personalmente rimango un po' abbastanza legato a questa interpretazione che non è di limente sapendo appunto che anche nelle psicosi cosiddette chimiche a induzione chimica da una parte ci sono determinate sostanze e non altre d'altra parte c'è un uso di queste sostanze ritirato in eccesso e d'altra parte c'è un soggetto che in qualche modo ha una storia e adesso va incontro per cui nella concausalità di tutti questi elementi su cui secondo me bisogna aprire ancora dei fronti di ricerca che sia però una ricerca non ideologizzata perché altrimenti non andiamo da nessuna parte ecco tutta la grande partita di volumi di libri su l'uso della canna e sulla schizofrenia diciamo purtroppo mi dà l'idea che tutto questo lavoro sia un lavoro poco poco scientifico poco oggettivo e che quindi la ricerca debba assicurarsi già dall'inizio una sua neutralità senza un pregiudizio che in qualche modo interferisce poi con l'UNESCO la dipendenza vabbè abbiamo avuto l'esempio clamoroso sulla ricerca su San Patrignano ma questo diciamo forse è l'eccezione dell'eccezione ecco però il fatto che le ricerche nel nostro ambito rischiano di essere fortemente condizionate questo è un problema che dobbiamo porci mancano e sono molto spesso condizionate posso dire qualcosa? certo ma io credo che la strategia più utile sia davvero mettere da parte le definizioni sappiamo che ce le chiedono no Ravazzi prima diceva sì alla fine ci chiedono questa benedetta DD però ecco scendendo nella quotidianità nell'operatività nelle pratiche io personalmente dirigo un centro di salute mentale e credo che sia una buona pratica che almeno una volta al mese la nostra equipe si incontri con l'equipe del SET questo cerchiamo di farlo di preparare un incontro è un incontro in cui ciascun servizio propone due tre situazioni che a suo avviso meriterebbero un approccio integrato un lavoro insieme questo innanzitutto significa conoscersi e abbattere i pregiudizi reciproci con i colleghi ormai ci conosciamo danni ovviamente questo non impedisce che bisogna fare delle cose insieme non è solo la riunione ad esempio bisogna e le facciamo su situazioni particolari andare a domicilio della persona insieme dobbiamo fare quelle domiciliari congiunte ciascuno ha il suo sguardo di osservazione trovare delle integrazioni la persona che ha bisogno di un trattamento beh un giorno ci può essere il SET un giorno ci può essere il centro di salute mentale cercare di combinarsi nelle pratiche nelle azioni certo ci sono delle volte dei modi di vedere ciascuno di noi sbaglia io se devo parlare dei miei sbagli quante volte ho visto ragazzi o ragazze che avevano un profilo di dipendenza da sostanze e poi negli anni invece le sostanze non le hanno più usate invece quello che c'è è una condizione psicotica grave importante per cui a pieno titolo queste persone sono riconosciute come persone che sono che sono innanzitutto persone da curare all'interno di un centro di salute mentale vi posso dire poi sono esperienze sempre personali che ovviamente hanno il valore che hanno io personalmente qualche anno fa ho diretto un CERT anche per quattro anni ricordo che quando sono arrivato al CERT la prima cosa che ho fatto è non dimenticarmi delle difficoltà che avevo quando lavoravo in salute mentale a relazionarmi con il CERT per cui ho detto innanzitutto cerco di curare quello che vedo per cui se viene una persona un ragazzo una ragazza che ha una dipendenza da sostanze però presenta chiaramente dei sintomi importanti invalidanti beh la prima cosa che si fa io penso questo deve fare un medico è aiutarlo anche su quel versante là per cui avendo una competenza avendolo fatto per tanti anni mi sembrava utile che questa persona che da me magari accettava con più fiducia un trattamento sostitutivo potesse accettare anche un trattamento antipsicotico ad esempio un trattamento stabilizzante dell'umore questo significava poi però con più forza e con più competenza anche è presentare al servizio di salute mentale questa persona perché ovviamente non puoi fare tutto e dire io ho già iniziato lavoriamo insieme continuiamo adesso che sono ritornato nella salute mentale talvolta io chiedo anch'io più coraggio ai colleghi perché sono quasi tutti psichiatri e psicologi quelli che lavorano dal lato del SERT talvolta di prendere anche in carico la salute mentale cioè non aspettare necessariamente l'arrivo al centro salute mentale iniziare a fare un lavoro insieme poi le competenze si mescolano si intrigano ecco io penso che oggi sia questa una collaborazione molto operativa e molto elastica se ci perdiamo delle definizioni siamo tutti maestri e anch'io sono maestro quando quando non voglio sono maestro a mettere in campo faccio mia colpa le definizioni ma lo dico perché oggi credo che si è perso come ho visto anche nei commenti di chat si è persa la capacità di incontrarsi tra servizi cioè si manda una richiesta di visita specialistica anche tra servizio delle dipendenze e servizio della salute mentale beh ma questo è assurdo cioè voglio dire noi dobbiamo creare una rete sul territorio che deve essere fatta anche di scambi rapidi di cellulari che squillano di agende che si adattano in base a quelli che sono i bisogni delle persone e io credo che questo sia oggi un possibile modello altrimenti diventa un modello da DRG quello che che Ravazzi giustamente diceva poi è il modello che ci obbliga e ci costringe Sì Denise abbiamo due domande ancora al volo Daniela Genovese e Andrea Dainese Daniela Genovese se può attivare anche il video e l'audio grazie io vedo scritto Daniela Genovese ecco Andrea Dainese lo vediamo ma non ha il microfono attivato mentre di Daniela Genovese non vedo né il video né il microfono attivato forse può andare Andrea mi sentite mi sentite sì ok posso partire sì ok grazie niente allora io sono arrivato un po' in ritardo oggi perché ho avuto dei problemi di connessione va bene insomma comunque ecco ho fatto una scaletta in base alle tre tematiche che erano in programma per oggi quindi ho fatto le mie considerazioni in base ai temi posti allora sulla prima ho una valutazione si possono fare valutazioni di laboratorio ad esempio sulla slatentizzazione eventuale di psicosi presenti nei consumatori di droghe leggere ne parlavo perché io sono utente di un centro salute mentale qua di Badia Rovigo provincia di Rovigo e ne parlavo con la mia psichiatra e dicevamo insieme sì cioè il consumatore di droghe leggere va informato soprattutto perché il consumo è diffuso nei giovani e andrebbero informati appunto sui rischi che andrebbero in conto nel senso nel senso che se uno sapesse già in principio che ci fosse una psicosi eventuale che potrebbe scatturire dal consumo di droghe leggere che sia consapevole appunto di questo che dopo non venga a dire ma non lo sapevo cioè l'informazione è sempre utile voglio dire ecco poi sulla seconda tematica devo dire la psichiatria non si occupa di tutte le droghe almeno nel mio distretto l'alcol e le competenze dei shared dei servizi di dipendenza nonostante tutti i manuali di psichiatria ne considero l'abuso come malattia la terza tematica è la follia deriva essenzialmente da erate discriminazione della classe dominante potere nelle istituzioni gli animati già legalizzati contro le razze a culture diverse oggi uno spinero si va in casa ingiustamente coinvolgendo come lo è sempre stato il consumatore con micro e macro criminalità oltretutto la follia delle destre che fanno affari economici sulla droga serve a loro per stabilizzare soggetti a loro sgraditi su cui farli cadere ecco questa è la mia opinione finale di fare la fine se qualcuno può rispondermi grazie io ho concluso è stato troppo lungo ho soltanto mi sono fatto capire perché ho anche problemi di comunicazione io tra l'altro questo lo sa benissimo anche la mia psichiatra ho cercato di essere sintetico ma al massimo di farmi capire se avete delle domande il resto con l'audio è acceso nel senso che posso interagire nella discussione tutto qua ecco sì grazie Andrea sei stato assolutamente nei tempi mancano cinque minuti alla fine della mattinata per cui chiederei ai nostri regatori chi vuol rispondere di farlo subito ecco io posso brevemente rispondere alla seconda delle domande di Andrea rispetto al rischio di slatentizzazione di nuclei psicotici per un uso eccessivo di cannabis appunto la questione su cui ci sono dei enormi volumi in letteratura e su cui alcuni psichiatri in particolare insistono molto il vero problema è che anche qualora in alcune situazioni molto limitate fosse si perde e viene da un dato di realtà i consumatori di cannabis in Italia oggi sono stimati anche qui spanometricamente intorno ai 5 forse 6 milioni nella vicina Francia per esempio ne vengono stimati 8 beh allora quanti esordi schizofrenici avremmo mai dovuto assistere quindi voglio dire il dato epidemiologico in qualche modo tende moltissimo a circoscrivere tutta questa enfasi che viene posta sul ruolo della cannabis nel slatentizzare alcuni nuclei psicotici che in alcune situazioni particolari vulnerabili può anche capire intervengo io vedo Mario Colucci molto perplesso allora intanto vorrei fare proprio dieci secondi una riflessione sulle cose che ha detto lui molto interessante ma vorrei dire che purtroppo Trieste è un'eccezione nel nostro sistema nella nostra realtà nazionale credo un'eccezione legata anche alla sua storia specifica una collaborazione così piena tra i due sistemi e però potrebbe essere come dire un elemento complessivo cioè di riferimento io posso dire che quando il periodo che ho fatto che ho diretto il dipartimento avevo quindi vent'anni abbiamo provato in tutti i modi considerate che io sono psichiatra ho iniziato dalla psichiatria quindi è un'area che conosco un pochino so anche dialogare con questa noi abbiamo provato in tutti i modi possibili con accordi formazioni comuni eccetera non siamo abbiamo avuto anche delle piccole esperienze addirittura uno psichiatra che è venuto sull'unità di strada ma complessivamente ci sono degli ostacoli che vanno meglio analizzati io credo che tra queste c'è quello che dice Mario Colucci un problema di formazione oltre che di stereotipi reciproci detto questo che però penso dovrebbe essere ripreso anche dopo questa summer come approfondimento dopo Oltro già l'ha detto già ne ha parlato io questa questione in generale delle sostanze che slatentizzano anche qui credo che dovremmo metterla un po' insomma sottoporre a una nostra valutazione critica anche considerare che diamo per scontato che ci sono persone che hanno qualcosa dei nuclei al loro interno insomma io credo che la cosa insomma l'esigenza che noi abbiamo è di rimettere un po' in discussione alcune di queste elementi senza mettere in discussione la realtà e provare ad affrontare le questioni perché io ho visto persone che usando cannabis sono state male anche in modo cioè non escludo che possa accadere nessuno di noi può escluderlo quello che io escludo che esiste che escludo che non credo che metto in discussione che ci sia un rapporto meccanicistico cioè nelle caratteristiche di una sostanza farmacologiche si possa rintracciare un elemento predittivo e questo secondo me noi dobbiamo mettere in discussione così come credo che nemmeno anche la persona le sue caratteristiche possono essere un elemento predittivo le fasi della vita sono ampie sono generazioni passaggi di una generazione momenti critici momenti specifici ora noi abbiamo nella nostra area nell'ambito della riduzione del danno un come dire un modello di azione che è quella della limitazione dei rischi che interviene proprio su queste aree molto ampie di consumo di modelli di uso di consumo conosciamo bene l'Aeropoldo le conosce bene nella nostra area le conosciamo e volevo dire Andrea di Alese e che fanno proprio questo lavoro informano su tutti i rischi diciamo e su tutte le specificità dei rischi dalle sostanze ai contesti al set allo stato d'animo alla situazione della persona dobbiamo dire che attualmente la situazione di penalizzazione sistema penale e la rappresentazione sociale ostacola la diffusione di queste informazioni cioè nonostante è possibile ciò nonostante che sono persone che non hanno nemmeno bisogno di queste informazioni spesso e qui il discorso dei pari noi dobbiamo provare a facilitare a supportare questa comunicazione orizzontale proprio perché gli eventi sono pochi dobbiamo provare a evitare quegli eventi ma quando avvengono e non si riescono a evitare i nostri sistemi devono essere pronti a non etichettare e stigmatizzare io ripeto questo credo che sia un terreno interessante anche seduttivo se volete di approfondimento futuro anche quello di lasciarci un po' indietro tutti i nostri dettagli personalmente ho vissuto in questo modo la mia esperienza diciamo il lavoro ed è stata entusiasmante credo che anche la formazione potrebbe essere questo mettere insieme queste competenze queste esperienze e farle diventare un sapere un sapere critico in movimento continuo che non si ferma su se stesso ma va oltre e considera sempre l'altro come un punto che lo mette in discussione giusto veramente due risposte flash beh allora innanzitutto io direi però che quando parliamo di cannabis io userei il plurale cannabinoidi perché sicuramente oggi sul mercato ci sono cannabinoidi sintetici che hanno una potenza degli effetti molto diversi dalla cannabis classica questo lo sappiamo e quindi anche lì farei attenzione anche io vedo molti quadri diciamo di psicosi possiamo dire indotta dall'uso di cannabis e che poi restano anche degli episodi isolati però ci sono queste quindi io direi sul cannabinoidi sintetico ho le mie riserve purtroppo è anche una pratica diffusa almeno nella nostra realtà ma rispetto a Trieste sì sono d'accordo Stefano però dobbiamo anche un po' uscire da quest'idea dell'eccezione perché poi in realtà io ho fatto riferimento alla conferenza nazionale della salute mentale abbiamo ascoltato moltissime esperienze in Italia che non sono Trieste e che sono delle esperienze validissime in cui si è fatta l'istituzionalizzazione e si fanno delle buone pratiche di territorio Trieste è stata al centro delle polemiche proprio perché si è attaccata a Trieste e quello che è successo forse già lo sapete insomma la stampa ne ha parlato quindi io uscirei perché se no poi diventa sì beh quello è un esempio però circoscritto è una bolla ma la realtà è un'altra io credo che non sia così a parte che non è Trieste ma è tutta la regione fruglienza Giulia che funziona come Trieste quindi stiamo già parlando di quattro province non è soltanto la città di Trieste che funzionano con il 24 ore detto questo la collaborazione tra servizi è ancora tutta da costruire secondo me e secondo me va costruita anche perché oggi insisto veniamo sia chi fa psichiatria sia chi si occupa di dipendenze purtroppo da delle formazioni troppo medicalizzate che pongono in primo piano l'elemento come dire diagnostico più che l'elemento dei bisogni dei legami sociali di ciò che riguarda le competenze di lavoro sul territorio ecco non vorrei ripetermi però grazie bene io direi a San se siamo tutti d'accordo visto che mi pare che Daniela Genovese abbia detto che aveva scritto ha scritto in chat insomma che non aveva poi una domanda precisa da porre visto che sono già le tredici e trentacinque di chiudere qui la mattinata per dare modo a tutti di pranzare riposarsi un po' e riprendere con spirito prontissimo i nostri lavori alle quindici perfetto ricordo che il link rimane lo stesso e quindi basta riconnettersi allo stesso link bene allora grazie a tutti ci vediamo alle quindici per proseguire i nostri lavori grazie davvero è stata una bella mattinata ciao a tutti grazie grazie grazie